Un saluto a tutti i nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici per questo episodio di oggi che dedichiamo ad un evento che ormai è storia e tradizione nel nostro territorio. Parliamo della Fiera dei Cavalli di Cantiano e qui con noi per parlarcene il sindaco del comune di Cantiano, Alessandro Piccini. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Partiamo da quella che è la storia di questo evento, è la 45esima mostra a mercato regionale del cavallo e la 38esima rassegna del cavallo del Catria, quindi siamo quasi sul mezzo secolo di storia per questo evento che si svolgerà, lo ricordiamo, in due domeniche, quella del 13 e del 20 ottobre. Partiamo proprio dalla Fiera. Cosa significa la Fiera per Cantiano e cosa significa la Fiera per chi viene? Sì, ecco, la Fiera per Cantiano credo che sia il più alto momento di promozione e di ricaduta economica reale sul territorio. Ecco, si unisce all'altro grande evento del paese che è la Turba, un evento identitario culturale e qui invece per l'unicità del cavallo raccontiamo l'intero nostro territorio, dalle sue bellezze alimentari e ambientali che trovano appunto la loro massima espressione in questa due giorni, la cui unicità a livello nazionale è quella proprio di svolgere una Fiera di settore non dentro un padiglione fieristico, bensì all'area aperta, all'appendici del Monte Catria, in più di un ettaro di superficie in cui appunto si ritrova quel rapporto storico tra uomo, animale e natura. Ecco, siamo alla 45esima edizione della Fiera Mercato, aperta chiaramente a tutte le razze, all'interno della quale poi è nata la rassegna del cavallo del Catria. Il cavallo del Catria è l'unica razza autoctona della regione Marche, quindi questo momento promozionale non è solo del Comune di Cantiano, ma è dell'intero territorio, ma della regione Marche, ecco in aggiunta, tant'è che appunto la stessa regione ha fatto una legge di valorizzazione del cavallo del Catria che individua proprio nel centro ippico la Badia, il luogo in cui si svolge la Fiera, l'unico centro di valorizzazione regionale. Quindi ecco, siamo ormai a quasi mezzo secolo di questo evento che nel tempo è cresciuto sia a livello qualitativo che numerico e di attrattività. Ecco appunto la location è la chiaserna di Cantiano che è un'area immensa dove ci sarà di tutto, tanto spazio per i cavalli, per quella che è la mostra, ma anche tanto spazio proprio per chi viene a visitarla, dagli show agli stand, ci sarà un po' di tutto, tra cui ovviamente quelle che sono le eccellenze di Cantiano, ecco ora abbiamo parlato del cavallo che è un'unicità, però ci sono anche tantissime altre preribatezze culinarie e non solo, ecco a me vengono in mente gli amareni su tutto, ma anche il pane che rendono Cantiano unica anche da questo punto di vista. Esatto, ecco l'idea è proprio questa, di creare attorno al fattore unico che è il cavallo, in un contesto, in un periodo in cui si parla di tartufo un po' ovunque, noi ci poniamo dal punto di vista promozionale con un'attrattiva unica nel suo gene e attorno al cavallo l'idea è quella di raccontare tutto il nostro paniere di prodotti tipici, le nostre attività agroalimentari che generano economia poi tutto l'anno sul territorio che sono legate ai nostri prodotti tipici, quindi il pane di chiaserna, le amarene di Cantiano, aggiungo la birra del Catra, i nostri salumi e prodotti di qualità allargate a un territorio e a loro eccellenze, il vino, l'olio, il tartufo, quindi ecco un contenitore perché questo è Fiera Cavalli, è un vasto contenitore di trattenimento in cui c'è un settore legato agli esperti di settore, di razza che è il cavallo, ma attorno al quale appunto c'è un vasto intrattenimento per le famiglie largamente intese, quindi spettacoli equestri, animazioni musicali, giochi per i bambini, quindi la possibilità di godersi di un'intera giornata a contatto con la natura e gli intrattenimenti. Ecco, tutto questo, questa enorme cornice, questo contenitore che diventa, la Fiera non soltanto diventa un contenitore delle unicità, ma anche un vero e proprio volto internazionale per quello che è il comune di Cantiano e per l'evento stesso, perché comunque sia il mondo dei cavalli è un mondo veramente che raccoglie gente da tutto il mondo, soprattutto poi quando si parla di un'unicità come il cavallo del Catria di cui parlavamo. Esatto, ecco il settore equestre ormai trova pochissime fiere di alto livello a livello nazionale. Chiaramente Fiera Verona Cavalli, ecco, a inizio di novembre, ma subito dopo credo che Cantiano Fiera Cavalli si piazzi sul podio e quindi ecco è diventata attrattiva anche per professionisti che siedono ormai e gareggiano sulle arene più prestigiosi a livello internazionale. Non a caso ospitiamo ecco anche dei professionisti di qualità per quanto riguarda degli spettacoli equestri, quindi dei Guinness World Record, degli altri professionisti che hanno calcato le scene di Verona, Fiera Cavalli. Quindi ecco diciamo spettacoli di qualità che crescono di livello come giusto che sia, crescendo la qualità e anche la densità dell'evento che intratterranno un vasto pubblico che al contempo ecco troverà in questo centro quel rapporto naturale, perché questo è il valore aggiunto e la forza di questo evento, del trovarsi a fianco a fianco del cavallo, quindi di questo nobile animale, in un contesto di estrema e d'alta qualità. Quindi ecco chi verrà non troverà solo spettacoli, intrattenimenti, ma anche un beneficio proprio fisico nel stare un giorno a contatto diretto con la natura. Ecco, una cosa che vorrei chiarire a chi magari non c'è mai stato, che non è che si tratta appunto di un luogo dove una persona va e si trovano i cavalli da vedere, ecco in realtà si convive proprio con i cavalli, dal classico galoppo a, io ricordo, i muli che mostravano come una volta si trasportava il legno, quindi ecco si potrà proprio convivere con l'animale. Esatto, ecco c'è proprio l'animale, si vedrà l'animale nel suo luogo naturale, non dimentichiamoci che il cavallo del Catria proprio trae il suo nome dall'omonimo massiccio in cui vive praticamente allo stato brado quasi tutto l'anno, quindi ci saranno l'esposizione di questi cavalli che tornano appunto per l'occasione dal monte, quindi riscendono nel luogo fieristico, il tutto coordinato dall'associazione allevatori cavallo del Catria, quindi un gruppo di allevatori che si è costituito in associazione e poi avremo altre attività legate appunto al cavallo, il battesimo della sella, quindi questo primo approccio col cavallo che tra l'altro individua proprio in questa razza una delle razze italiane più idonee a traghettare i ragazzi verso l'equitazione perché è un animale molto docile in cui l'approccio diciamo è facilitato anche per i piccoli. Tra l'altro lo stesso Ministero dell'Agricoltura, il Masaf, riconosce queste caratteristiche, questa duttilità di questi animali e il livello della fiera, tant'è che per il secondo anno consecutivo abbiamo di nuovo il patrocinio da parte del Ministero, quindi credo che sia questo anche un valore e un riconoscimento al duro lavoro di questi anni che ha portato l'evento ormai a questi livelli. Ricorda questo, per lei cosa significa questo riconoscimento ma anche tutta l'attrazione che genera questa fiera, questo evento, oltre che per l'amministrazione, proprio per lei che comunque ha attraversato Cantiano in un periodo tragico e con la tremenda alluvione che c'è stata e questa fiera sembra aver ridato vita, gioia a quello che è il territorio. Esatto, noi abbiamo sempre visto nella fiera un'occasione di rilancio, abbiamo lanciato l'edizione primaverile del cavallo dopo il periodo di chiusura del Covid, quindi come rilancio dopo un'emergenza del caso sanitario e l'abbiamo rimessa in campo da subito dopo l'alluvione, appunto come dimostrazione della capacità di una popolazione, di un territorio di rialzarsi. Quindi insomma noi ci abbiamo creduto tanto, siamo quell'amministrazione che non solo ha duplicato l'evento nella veste primaverile ma ha anche raddoppiato la storica data di ottobre che tendenzialmente era la seconda domenica, gli abbiamo associato una terza domenica, convinti che un territorio debba concentrare gli sforzi e le energie e va sicuro sono tanti perché ancora l'evento grava economicamente, logisticamente, dal punto di vista organizzativo sulle spalle dell'amministrazione che spesso in un piccolo comune coincide col sindaco e quindi capirai lo sforzo organizzativo di organizzare un evento con 30 stand espositivi, con le federazioni, centri ippici, le associazioni allevatori, in due giornate in cui arrivano migliaia di persone. Quindi ecco io credo che tutta la comunità debba essere fiera dell'evento che ha e debba lavorare anche affinché si garantisca la continuità di un evento sempre più difficile, sempre più oneroso ma che credo porti economia reale e soprattutto promozione e visibilità a un territorio che si affaccia come un evento unico a livello regionale e ormai nazionale. Quindi ecco è un evento su cui credo che sempre di più dobbiamo concentrarci e puntare per il futuro. L'evento è veramente immenso sia a livello di area che a livello di contenuto, infatti vi diamo i telespettatori a recarsi abbastanza sul presto perché i parcheggi è una cosa, ci sono, quello non è un problema però ecco se volete proprio arrivare all'ingresso, vicino all'ingresso tocca muoversi presto perché è veramente tantissima la gente che va all'evento come tantissime sono le attrazioni, tutto quello che viene mostrato. Ecco citavo appunto gli stand, gli spettacoli, gli show, quindi si va anche fuori da quello che è il circuito ecco diciamo del cavallo per una trazione a 360 gradi culinaria e di spettacolo. Esatto ecco è un qualcosa che non capita di vedere tutti i giorni. Ecco io invito per questo, cioè di sfruttare l'unicità dell'evento per vedere cose che non si vedrebbero quotidianamente perché poi le fiere dal punto di vista organizzativo sono simili, girando per i territori in questo periodo, non siamo a Verona in cui non c'è il contatto diretto tra uomo e cavallo, siamo dentro stand e padiglioni fieristici, si è tolta la promiscuità dei passaggi nelle aree comuni di attraversamento, quindi lì un cavallo lo si vede da lontano, qui un cavallo lo si tocca, ci si sale sopra. Bisogna fare attenzione quando cammini c'è il cavallo di fianco. È chiaro un minimo d'attenzione però io credo che insomma sia veramente una situazione da provare, quindi invito tutti così come avete fatto in questi anni a presenziare perché ecco si arriva a casa più ricchi di come si è arrivati. Sì, naturalmente uno si rega lì sul posto, ci sono i cavalli che girano tranquillamente come le persone e sono comunque tutti docilissimi, nel senso uno ovviamente non deve far sbizzarire il cavallo però sono, mi ricordo l'anno scorso, qualsiasi cavallo che vedevi in giro col fantino si avvicinavi tranquillamente, potevi accarezzarlo, prima poi di uno show che è stato strepitoso all'interno dell'aria e anche lì uno show bellissimo e dagli atleti incredibili. Sì esatto, animali chiaramente dicevamo prima con delle caratteristiche molto docili, quelli del Catria e gli altri abituati a situazioni fieristiche. In un contesto, in un luogo di proprietà dell'amministrazione comunale che è un centro ippico che lavora tutto l'anno perché ha delle strutture sia allo scoperto che all'aperto che permettono un'attività agonistica tutto l'anno. Quindi il centro ippico e l'abadia non solo è in grande spolvero in questi giorni ma si sta ponendo a livello qualitativo e di attività come uno dei centri ippici regionali di riferimento. Una vera e propria vetrina per Cantiano, per quello che è il Comune, è un grandissimo appuntamento posso dirlo anche da un punto di vista personale avendola vissuta la fiera e tornerò anche quest'anno che veramente lascia tanto soprattutto poi per chi ama i cavalli o per chi magari vuole scoprire quello che è l'animale. Quindi l'appuntamento è il 13 e il 20 ottobre. Io, Sindaco, se vuoi aggiungere qualcosa per i telespettatori prima del saluto... Beh, credo che poi la tua esperienza professionale sia già una garanzia su quello che ci si aspetta. Domenica 13, domenica 20 è un'occasione veramente di un rapporto sinergico tra la natura, l'animale, l'uomo, l'enogastronomia di qualità, gli intrattenimenti, quindi un contenitore da vivere appieno dalla mattina alla sera come famiglie e come luogo appunto in cui si può vedere, si può apprezzare un territorio nella sua massima espressione e trovare lì delle unicità che solo Fiera Cavalli sa esprimere e regalare. Mangiate le amarene, questo lo aggiungo io perché sono una cosa incredibile. Il pane e tutto il resto, chiaramente. E il pane, anche su quello che è un grande amante anche del pane. Perfetto, Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, per questa parentesi sul magnifico scenario che è Cantiano, sul magnifico comune e su un evento veramente, lo ripeto, incredibile che ti lascia qualcosa dentro. Io saluto i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici con l'invito al 13 e al 20 ottobre di vivere una fiera internazionale bellissima e all'insegna di quella che è la convivenza tra l'uomo, l'animale e la natura. Grazie. 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 Grazie.